Non è mai facile venire qua, anche se vincere qua, anche se loro non hanno ancora vinto quest'anno qua in casa, però partite difficili, poi da quando hanno cambiato allenatore hanno proprio cambiato il modo di giocare, di andare ad aggredire, infatti ci hanno messo spesso in difficoltà senza palla anche nel venirci a prendere in avanti. Queste partite si decidono anche con questi episodi, è stato bravo Bale un'altra volta ad essere lì e siamo stati bravi a crederci fino all'ultimo. La differenza secondo me li fa queste partite infrasettimanali perché se vinci comunque riesce ad accorciare ancora di più la classifica e dobbiamo stare, il nostro obiettivo è quello di rimanere attaccati il più possibile lì in alto e poi dobbiamo pensare a noi stessi e il resto verrà la serie.